La squadra che vince non si cambia, sì perché il Catania in pratica ha mantenuto gli stessi uomini della scorsa stagione. A cambiare è stata la guida tecnica, l'aeroplanino Vincenzo Montella è volato a Firenze. Al suo posto il Catania ha scelto Rolando Maran, al suo debutto nella massima serie. L'opinione di alcuni giornalisti. Maran farà meglio di Montella. Per quello che ci auguriamo tutti quanti, fino a questo momento non possiamo dare immagino un giudizio definitivo perché siamo appena all'inizio. Se Maran riuscisse a ripetere Montella sarebbe sicuramente un'altra scoperta del Catania. Le premesse ci sono tutte perché l'interatore della squadra è rimasta quasi identica. Probabilmente non sarà la partita con la Roma che potrà dare un giudizio definitivo sulla bontà del lavoro svolto da Maran. Per la società del presidente Pulvirenti si tratta del settimo anno consecutivo in Serie A. I tifosi sognano l'Europa, ma l'obiettivo primario degli Etnei resta sempre e comunque la salvezza. Credo che il Catania possa essere la più grande delle medie se vogliamo trovare questa definizione. Quindi un sesto, settimo, ottavo posto sicuramente potrebbe essere un risultato importante. Se loro augurano i tifosi e soprattutto la società sta mettendo i mezzi per arrivare. Sarà la stagione del riscatto di qualcuno in particolare? Ma sì, potrebbe essere la stagione del riscatto. Ci possiamo augurare ad esempio quella di Andukar. Uno è Biaggianti perché secondo me è guarito dall'infortunio, potrebbe tornare ancora ai livelli da nazionale come era successo qualche anno fa. E poi ho visto in precampionato Dukarà che è un giocatore che è arrivato così, che nessuno conosceva. Questo quando entra negli ultimi 20 minuti fa gol, quindi se riuscisse a farlo un paio in campionato magari racconteremmo una bella favola. Marco Biaggianti che lo scorso anno è stato sfortunatissimo, credo che è stato sfortunato anche per tutta una serie di infortuni. Cristian Giamma, forse le rivelazioni, le sorprese potrebbero essere loro. Senza dubbio i giocatori più attesi, i giocatori che più potrebbero dare sono Biaggianti, sono Giamma, che certo vengono da stagioni un po' appannate, che gli stessi tifosi forse sono anche un po' stancati di aspettare. Le squadre che potrebbero occupare la parte bassa della classifica sembrano essere Siena e Pescara, anche perché hanno dei punti in meno. Sì, io non so com'è anche la situazione del Bologna, perché economicamente è un po' debole, ha avuto dei problemi. Di Vaio è andato via, Portanova sappiamo che è coinvolto in situazioni poco piacevoli. È sempre un'incognita, mancando un leader come Di Vaio secondo me avrà dei problemi. Spero che abbia problemi così il Catani magari completa il campionato un po' più su. Grazie. 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 Grazie.